Il progetto c'è, i soldi anche, quel che manca è l'ascensore. E' per questo che persone con problemi di deambulazione, quali disabili e anziani, sono segregati in casa. Succede alle case Gescal di via Valle San Mauro a Pescara, dove tutte le palazzine dell'Aterra hanno da anni l'ascensore, fatta eccezione per soli tre fabbricati in cui i residenti sono stati abbandonati. Sono anni che abbiamo fatto richiesta, ci racconta un'inquilina, ma nessuno ci ha mai risposto. Io ho avuto prima una protesi completa al ginocchio che si è rotta e poi me l'hanno rimessa. Io abito al primo piano rialzato e ogni tanto scendo con le stambelle, ma adesso è peggiorato perché col covid non ho potuto fare la fisioterapia, è tutto chiuso, dovevi fare la piscina, per scendere ho le stambelle. Poi il deambulatore mi sono dovuta fare perché mi stango, il dolore è forte, ce l'ho nel garage e ogni tanto esco perché io non ce la faccio, sta chiusa sempre dentro. Noi facemmo questa domanda 15 anni fa perché a fianco a me la signora è morta, stava proprio sulla sedia a rotelle. Eppure non vi sono problemi tecnici per la realizzazione dell'ascensore e a mancare non sono nemmeno i soldi. Sono stanziati 150 mila euro che però non arrivano all'Ater. Come spiega ai nostri microfoni il vicepresidente del consiglio regionale, Pettinari. Sono tre palazzine, casa e gesca al popolare, proprietà di regione Abruzzo, senza ascensore, il civico 40, 42 e 44. E sono proprio quelle abitazioni dove ci sono malati gravissimi, disabili, anziani, che non possono scendere più di casa da tanti anni, sono segregati in casa, persone con gravi patologie che oggi non sono potuti scendere sotto e che non ce la fanno più e che dicono guardi noi vorremmo rivedere la luce del sole. Al bilancio di previsione del 2021 ho fatto stanziare 150 mila euro della regione Abruzzo, quindi i soldi ci sono. L'Ater ha fatto il progetto, quindi è tutto pronto, si è intoppato tutto al trasferimento, cioè le somme non vengono trasferite dalla regione all'Ater. I soldi ci sono? Come mai non vengono trasferite all'Ater? E' proprio questo il problema che stiamo chiedendo a regione Abruzzo. Chiediamo al presidente di regione, l'assessore regionale al bilancio Liris, di sollecitare la regione, i loro uffici, a fare questo benedetto trasferimento. Perché si sta parlando di riprogrammazione dei fondi europei, perché sono soldi che vengono dai fondi europei. La riprogrammazione si fa in un'ora, non dobbiamo aspettare mesi e mesi per la riprogrammazione delle risorse europee.